Una villa di più piani con piscina adibita a bed and breakfast con relativa attività di impresa e 6 conti correnti bancari, il tutto per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. E quanto la divisione anticrimine della Questura di Bari ha sequestrato un 33enne e a 4 persone a lui riconducibili, ritenuto vicino al clan Parisi del quartiere Iapigia del capoluogo pugliese. L'indagine patrimoniale, avviata nella primavera del 2023 e condotta con il supporto del Servizio Centrale Anticrimine di Roma, si è concentrata sul 33enne pluripregiudicato, risultato essere possessore di beni sproporzionati rispetto alle sue capacità reddituali. Sono state individuate proprietà immobiliari e beni immobili intestati a lui e a persone vicine a lui, oltre che familiari. L'uomo nel 2022 fu coinvolto in un'operazione su reati in materia di sostanze stupefacenti.